Teresa Ruona Revisore Revisore Il tema che ho scelto di condividere con voi, in questo tema c'è la parola matematica. Io non l'ho mai amata, sono sincero. Però sin da ragazzo desideravo essere felice pienamente. guardavo tanti i miei amici che avevano già rinunciato alla felicità e si rifugiavano per avere questi spazi di spensieratezza all'abuso di alcol oppure all'uso del proprio corpo del corpo di una persona, di un'altra persona o all'uso di stupefacenti e questa cosa mi faceva riflettere è possibile che abbiamo perso la capacità di stupirsi è possibile ascoltare un giovane che dice non ho più voglia di vivere, la vita fa schifo, che paranoia e si ricorre quindi a ciò che distrugge la vita per vivere questi spazi, tra virgolette e non l'ho mai accettato, mi sono messo un po' alla ricerca e avevo una bella famiglia avevo tanti amici, ho tanti amici eppure in queste relazioni, che può essere l'amicizia può essere avere una famiglia dietro può essere avere un partner, un compagno, una compagna eppure ho scoperto che il mio cuore si riempiva per un max di 60%, 65% c'era una parte del cuore che non si riempiva mai e nonostante aumentavo gli amici nonostante avevo la sicurezza di persone che mi amavano eppure rimaneva una parte vuota e quindi rimaneva questa insoddisfazione che tante volte i genitori lo dicono a volte gli adulti tra di loro lo pensano ma come mai ha tutto eppure cosa li manca eppure perché non riesce a realizzarsi perché non riesce a stare bene perché non riesce a vivere bene allora mi sono messo alla ricerca per l'operazione matematica della mia vita volevo che il risultato fosse amore con la maiuscola e quindi in questa ricerca nello sport e un po' supportato dalla mia famiglia mi hanno spinto mi hanno proprio un po' spinto al volontariato perché io di mio non l'avrei fatto non mi sentivo una persona sensibile, altruista anzi mi sentivo egoista volevo ricercare la mia strada a tutti i costi senza pensare agli altri eppure la mia famiglia mi ha dato una spinta e mi sono ritrovato pur non volendo a fare amicizia con delle persone che avevano una disabilità delle persone che avevano un disagio delle persone che avevano magari una malattia anche grave e inizialmente questa cosa mi spaventava per dirmi che non è solo per chi è portato è una grande bugia una grande menzogna e mi sono ritrovato quindi ad andare al mare con degli amici disabili che altrimenti non sarebbero potuti andare al mare e c'era una ragazza che si chiama Lucia è di Barletta e noi siamo stati una settimana al mare e non si è mai fatta il bagno in quei giorni il mio compito era di aiutare le persone a entrare in acqua riportarle poi in spiaggia asciugare, stare con loro ed era bello vederli sorridere questa cosa banale che fare un bagno al mare per chi vive al mare noi iniziavamo ad aprire a farci il bagno qui a Barletta già da quando ero studente così già dalle medie e l'ultimo giorno ho convinto Lucia ad entrare in acqua nonostante la conoscessi solo da sei giorni dai dai Lucia ti prego dai di entrare in acqua alla fine l'ho convinta siamo entrati in acqua e Lucia è una ragazza costretta a stare sulla sede a rotelle e scoppiate a piangere allora subito mi sono sentito inadeguato ho detto vedi non ti puoi improvvisare sei stato stupido hai fatto soffrire una persona lei mi ha stretto forte la mano e con questo pianto mi ha detto grazie oggi è il giorno più bello della mia vita perché è il primo bagno che faccio a 30 anni allora io ho provato ho provato un'emozione da tremare le gambe mi sono sentito quasi di svenire e questa cosa mi ha colpito perché se una persona mi dicesse quando ho baciato la ragazza di cui ero innamorato ho provato questa emozione e mi dico lo capisco ma nessuno mi aveva raccontato nessuno mi aveva insegnato nessun educatore nessun maestro nessun sacerdote nessuno mi aveva detto che andando con una persona estranea che non conosci con una disabilità che di solito è costretta a stare da sola che non esce mai che noi pensiamo che non ha nulla da darci vivere con lei un'esperienza di questo tipo e vivere con l'emozione non mi aveva mai raccontato nessuno mi ha sconvolto perché ho scelto ho tornato a casa di andare a trovare Lucina tutte le settimane perché avevo bisogno di restituirli lei mi ha fatto un grande regalo fuori dicevano ah ma che bravo ma io in realtà lei mi ha fatto un grandissimo regalo e di lì a poco ho conosciuto un altro bambino di 9 anni con la tetra paresispastica abitava in un quartiere periferico di Barletta un papà alcolizzato che non ha mai accettato sua mamma dolcissima si è ammalata poi è morta e questo bambino non si lavava da diversi giorni quindi la mamma ha contattato mia mamma mia mamma mi ha chiesto di andare sono andato sono diventato suo amico lo ho aiutato nelle faccende quotidiane gratuitamente e dopo un mese che lo conoscevo l'ho portato a mangiare una pizza lui non era mai uscito perché il padre non voleva si vergognava di avere un figlio disabili all'unico figlio non andava a scuola perché fino a fine anni 80 metà anni 90 non era garantita l'accesso alla scuola per i bambini disabili e insomma alla fine ho convinto il padre a poterlo portare fuori siamo andati in pizzeria gli ho spiegato le pizze lui ha scelto le quattro stagioni quando è arrivata questa pizza lui è saltato una persona come la mia amica concetta con la stessa malattia è saltato dalla sedia a rotelle e si è commosso io sono entrato in un altro mondo sono andato fuori di testa guardare il suo sguardo la sua emozione ho detto ma cavolo una cosa così banale per noi non ha senso mangiamo per gola scegliamo i cibi più prelibati ma non ci dona questa gioia allora mi sono detto Luca questi amici non li lasciare mai più sono diventati per me degli occhiali da vista io ho la necessità di mettere di indossare questi occhiali per andare in profondità nella mia vita per arrivare al fondo del mio cuore per vedere la bellezza in tutte le cose sono andato con Concetta questa mia amica ha 60 anni e sono morti i genitori e vive con me da 5 anni quindi siamo come dei fratelli per me è una sorella siamo andati l'ho portata anche lei a mangiare una pizza in tutte le mie cose me l'ha chiesto da tempo ero stra incasinato abbasso il finestrino stavamo sul lungomare lei guarda il mare guarda il cielo sospira dice che è bello io in tutti i miei messaggi che mi arrivavano i miei pensieri ha fatto fermare il tempo hanno la capacità di farti rallentare di farti fermare di guardare attraverso i loro occhi che regalo grande e poi attraverso la vita che svolgo la missione che ho scelto sono stato in Africa con 200 bambini orfani e poveri ritornati in Italia ho iniziato a cercare i poveri i cosiddetti scarti gli invisibili coloro che delle volte associamo operazioni anti-degrado sono andati a togliere i materassi a gente che non ha un posto dove andare poi dicono no li abbiamo inviati alle caritas varie ma ci sono pochi posti le persone restano fuori non è vero il vero degrado che un essere umano è per strada non che un essere umano mette un materasso per dormire fuori è quello il vero degrado allora andando in strada con i giovani porto tanti ragazzi e andiamo con questi amici senza tetto ho scoperto molti di questi sono persone anche nostre con nazionali sono molti papà separati ho persone che soprattutto uomini il 90% che hanno perso il lavoro prima sono finito a dormire in macchina e poi per strada persone che non erano abituate che non erano dei clochard per scelta non hanno la psicologia di chi si rintana per strada non vuole saperne niente non è abituata a soffrire ad essere solo e ho scoperto che la loro povertà non è aver perso tutto è aver perso tutti ho scoperto che il povero è più povero è colui che perde tutti che non ha più nessuno perché se avesse qualcuno è quello il primo welfare noi delle volte disdegniamo le relazioni noi calpestiamo le persone che ci sono vicino non le apprezziamo ma ho scoperto invece che sono la nostra vera ricchezza ma l'ho scoperto solo andando in strada solo incontrando quel papà separato che non ha più nessuno e dice voglio morire voglio farla finita allora quando andiamo con i giovani dico sempre ragazzi ricordate il loro nome chiedeteli qual è il loro pasto preferito il loro colore preferito perché la settimana dopo andiamo tutte le settimane gli portiamo quel pasto la maglia di quel colore e quella persona dice ti ricordi di me? no dai allora non è vero che non valgo niente allora per qualcuno esisto grazie forse noi cerchiamo anche di togliere dalla strada non è che andiamo lì dai un panino e basta il panino è una scusa ma lavoriamo per togliere quella persona dalla strada c'è chi dice io voglio restare qui sto male mi manca la mia famiglia però non mi lasciare soffrire da solo continua a venire allora questi giovani che vengono in strada dicono mi ardeva il cuore il fuoco nel cuore sentito un fuoco dentro in questo incontro allora ecco per me la matematica dell'amore si chiama questo incontro ho scoperto che se tu metti un giovane o un adulto un disabile è un povero un senza tetto una persona che si trova nel bisogno se tu le metti insieme noi rappresentiamo il giovane l'adulto che è già pieno delle sue relazioni quindi che ha un compagno un partner dei figli ha già tutto questo però gli manca quel 30% manca e non c'è nient'altro nessun altro ha la capacità di riempirlo allora nell'incontro con Concetta nell'incontro con Lucia nell'incontro con questo mio amico senza tetto allora Concetta diventa per me innanzitutto liberante mi libera dal mio egoismo mi libera dal pensare che i miei problemi sono insormontabili mi libera dal pensare che la mia vita fa schifo che non ha senso è la mia energia nucleare della vita mi cambia il volto e io allo stesso tempo per lei sono liberante lei viene liberata dalla solitudine viene liberata dallo stare a casa a vedere le quattro pareti di casa viene liberata dal pensare come sola viene tentata dal fatto che forse è meglio se muore altro no? è meglio se scegli una strada di morte ma la mia amicizia invece è una strada di vita e poi col mio amico senza tetto io lo libero allora dalla solitudine lo libero dal pensare che non vale niente lui invece mi aiuta a rivedere le mie relazioni a capire che sono importantissime torno a casa e sono felice di abbracciare i miei figli sono felice di abbracciare i miei amici sono felice di abbracciare la mia famiglia grazie a quest'uomo che era lì pensate un po' che potere che potenza che c'è io dico qui c'è una felpa dove c'è un senso unico amare per scelta è l'unico senso è il senso unico è solo così solo in quest'amore donato a persone strane sconosciute fuori dai tuoi interessi che secondo te forse non se lo meriterebbero eppure solo in questo incontro c'è la piena corrispondenza del cuore il cuore arriva a quel 100% e quindi c'è un volto bello sei sereno hai la forza per vivere per combattere sai quando vai a dormire per chi hai vissuto per qualcuno hai un motivo per alzarti per continuare a vivere grazie 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 grazie